Se stai pensando di costruire una casa, sbrigati. Puoi risparmiare un sacco di grana e aggiudicarti un bel certificato Casa Clima. E smettila di versare lacrime sui soldi che ogni inverno devi buttare fuori dalla finestra per scaldarti. Con Casa Clima, giorno dopo giorno, risparmiare e rimanere al caldo non è più un problema. Anche il tuo gatto si sentirà a casa e i topi balleranno, sì, ma fuori. Chiaro ora? Chiaro ora?